Rossini TV risponde alle segnalazioni dei suoi telespettatori. Oggi parliamo di risparmio energetico. Lo facciamo con Adriano e Paola, coppia di coniugi di Via Madonna di Loreto, che hanno adeguato la loro abitazione con uno sforzo all'insegna delle green, che però è uno sforzo che va a scontrarsi con una burocrazia e scadenze complicate. Sì, buongiorno. Io e mio marito abbiamo iniziato questi lavori l'anno scorso e li abbiamo ultimati a dicembre del 2022 facendo tutti questi lavori per una riqualificazione energetica complessiva. Adesso ci troviamo, dopo aver completato tutti i lavori, che al 31 marzo dobbiamo cedere l'energia prodotta dall'impianto al GSE con un contratto. Però per poter fare questo contratto occorre prima che la società e distribuzione allacci l'impianto alla rete. E qui esce fuori il problema, perché per richiedere questo allaccio ci siamo attivati da ottobre dell'anno scorso e siamo arrivati a metà febbraio senza che la pratica sia stata terminata. Per cui rischiamo di perdere il contributo del 110. Questa è una problematica che riguarda non solo noi, ma tante famiglie che hanno deciso di implementare con pannelli fotovoltaici e hanno queste identiche problematiche nell'allacciare l'impianto alla rete. Ci sembra un paradosso. Dopo un anno di lavori, dopo aver pagato tutte le ditte, potrebbe funzionare tutto, però senza questo allaccio da parte della società e distribuzione rendevano tutti gli sforzi e anzi corriamo il rischio di non poter usufruire degli incentivi statali col 110. Tutto questo tipo di interventi è anche cadenzato sui rischi del caro bolletto e voi avete tolto anche l'impianto di riscaldamento a gas con un intervento importante, green, ma con scarse prospettive di recupero in questa situazione. Esatto, noi l'anno scorso ci siamo attivati per dare la disdetta all'utenza del gas, abbiamo avuto delle bollette molto raddoppiate rispetto agli anni precedenti, per cui questa è stata una spinta in più per passare tutto alla produzione dell'energia solare e utilizzare, quindi abbiamo fatto il piano induzione, ci siamo adeguati anche per un mondo migliore. Ci vorrebbe dunque un tipo di intervento che cambi un po' questa situazione in tempi stretti? Certo, basterebbe che l'ufficio delle entrate desse la possibilità alla commercialista di caricare sul portale il fotovoltaico, bastante solo la domanda che ho fatto al GSE, senza aspettare la risposta. Grazie.